Non più gare, ma procedure negoziate per l'affidamento di lavori e opere pubbliche di importo inferiore a 500.000 euro da eseguirsi sul territorio regionale. Con voto unanime, la seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, e alla presenza dell'assessore lavori pubblici Stefano Vinti, ha espresso parere positivo al regolamento predisposto dalla Giunta legato alla legge regionale 3 del 2010 e che disciplina le modalità di gestione requisiti per l'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale. Da registrare comunque che al voto è stata legata una raccomandazione all'esecutivo di Palazzo Donini di verificare, approfondire e, se necessario, modificare la parte dell'articolo 6 del documento in cui è previsto che le imprese artigiane edili senza dipendenti devono dimostrare la congruità dell'incidenza della mano d'opera nel triennio antecedente, l'anno in cui è stata presentata domanda di iscrizione nell'elenco regionale, attraverso documentazione rilasciata dall'associazione datoriale alla quale aderiscono. In sostanza, la Commissione chiede che per questa tipologia di imprese non debba essere prevista obbligatoriamente l'iscrizione ad associazioni di categoria, ma dar loro la possibilità di chiedere la documentazione richiesta agli istituti previdenziali. Successivamente è stata posta ai voti, sei favorevoli e l'astenzione di Barberini del PD, un'altra proposta bipartisan, scaturita principalmente dai consiglieri Raffaele Nevi di Forza Italia e Maglio Mariotti del PD, di innalzare cioè a un milione di euro la soglia per le procedure negoziate. A seguito dell'entrata in vigore di questo regolamento, verrà predisposto un elenco regionale di imprese qualificate ai fini della individuazione di quelle da invitare, 5 a rotazione, alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, non potranno essere invitati soggetti che per la stessa categoria di lavori da affidare sono stati invitati già quattro volte nell'anno solare.